E in libreria da oggi tre penne raccontano la prima raccolta di articoli scelti per Siracusa e provincia con storie, monologhi e sconfinamenti. Si tratta della prima fatica letteraria della giornalista siracusana Claudia De Luca, insieme alla giornalista Maria Luisa Vanacore e alla nota scrittrice Mirella Gibaldi. Come si legge nella prefazione del professor Riccardo Sipala è una raccolta, un'antologia di articoli scritti in un ampio orizzonte in cui le autrici raccontano il bienno 2014-2015 di Siracusa e della sua provincia. Ne viene fuori un quotidiano a un tempo fatto di criticità, di pulsioni dell'anima, di pareri e impressioni, un'analisi della nostra storia recente che ripercorre un colorlario di notizie, di eventi, di luoghi, di persone, talvolta anche di miti e suggestioni. E così tre diverse sensibilità femminili riescono a spaziare, sempre mantenendo una forza attrattiva nei confronti del lettore. Politica, giacimenti culturali, attualità, aspetti curiosi, storie e profili, in aggiunta alle interviste con uomini e donne del mondo istituzionale e del sociale, ai fatti della nostra provincia, il risultato, quanto mai apprezzabile, è una raccolta di attenta ricerca e di lavoro certosino, grazie a cui persone e fatti vengono riportati in primo piano, costituendo sicuramente testimonianza storica importante per parlare dei protagonisti del nostro territorio.